Inizia al Palazzetto dello Sport di Ponticelli la giornata napoletana del Presidente del CONI, Giovanni Malagò. Presidente, come mai iniziare qui questo suo tour? Sollecitato da una gentilissima e sensibilissima signora che si occupa di sport e anche di sociale, avevo promesso di essere venuto a vedere queste strutture che onestamente non conoscevo, colpa mia. Ho chiesto al Presidente del CONI della Campania Cosimo Sibili di accompagnarmi. Ho visto un impianto che insomma ferisce vederlo che è abbandonato, mentre qui vedo una realtà viva con delle eccellenze sul judo, complimenti alla Nippon. Adesso sono qui anche con l'amministratore di CONI Servizi, oggi vedremo il Sindaco. Bisogna stringere e chiudere le convenzioni per questi impianti con una priorità totale, cioè assegnarli alle federazioni regionali che a loro volta le devono destinare alle associazioni che fanno sport, soprattutto a questi livelli. Insomma non ci sono altre strade. A proposito del Sindaco, lei incontrerà sia lui che il Presidente Aurelio De Laurenti, se si parlerà anche di Stadio San Paolo. Ecco, ci sono tante diatribe in merito a questo argomento. I cittadini napoletani, non solo i tifosi, sono un po' stanchi. Beh, devo dire la verità, anch'io sono abbastanza stanco di occuparmi forse un po' troppo di cose del calcio e non degli altri sport che sarebbe secondo me doveroso, per cui vediamo di trovare una soluzione agli interessi di tutti e magari col buon senso, l'importante è che nessuno si arrocchi su certi ragionamenti del passato e bisogna fare uno sforzo per venire in incontro, nell'interesse soprattutto dei cittadini e dei tifosi. Anna Ferrara, Presidente Antiracket, Antusura, SOS Impresa di Napoli. Ecco, questa mattina è venuta qui nel Palazzetto dello Sporto di Ponticelli, il Presidente del CONI, Malagò, ha fatto un giro abbastanza lungo anche e si è detto entusiasta di questa mattinata. Ecco, un risultato importante per lei che l'ho invitato soprattutto. Sì, non gli ho dato tregua ed è giusto che le istituzioni a livello nazionale si rendano conto che nella città di Napoli esistono tante belle realtà in un territorio molto difficile come i Ponticelli. Io ho chiesto al Dottor Malagò di darci una mano per cercare di rendere agibile al 100% questa struttura e di farne un presidio di sport e legalità. Grazie. 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 Grazie.